Aspetta eh, dai di qualcosa Simo. Ancora una volta a pesca di carpe, questa volta siamo venuti sul grande fiume con l'amico Paolo di Paola. Grande Paolo, ci siamo appoggiati a te, il tuo aiuto per questa sessione è stato importantissimo. Grande esperienza e grande capacità. Adesso procediamo con il rilascio, perché entro in acqua anch'io. Un combattimento davvero eccezionale. Gli amur del Po, si riconfermano ancora una volta molto forti, delle grandi ripartenze sotto riva. Aspetta a mollarlo. Eccolo qui, sto pronto per le partenze. Questo è bellissimo. E vai fiume Po, vai con Paolo di Paola, Big Game di Po. Vai! Grazie